La Finlandia non è solo la terra dei mille laghi e del sole di mezzanotte. Dalle vivaci strade della sua capitale alla quieta bellezza del suo arcipelago, questo paese nordico regala un ventaglio di esperienze uniche. Ricorda, questa non è una classifica, ma una selezione personale basata su alcuni parametri specifici. Il nostro viaggio inizia a Helsinki, la capitale della Finlandia. Questa città, celebre per la sua splendida architettura e il ricco patrimonio culturale, è un vero gioiello del nord Europa. Affacciata sulle rive del Mar Baltico, Helsinki pulsa di un'energia unica. La costa regala panorami mozzafiato, dove mare e cielo si fondono in una perfetta armonia. L'aria risuona del rumore dei tram che scorrono lentamente sulle strade acciottolate, mentre il profumo dei dolci alla cannella appena sfornati si diffonde dai caffè locali. Qui, i tram non sono solo un mezzo di trasporto, ma anche un simbolo del fascino e della storia della città. Helsinki è una città di contrasti, dove l'architettura moderna si fonde in modo armonioso con monumenti storici. La coesistenza tra edifici contemporanei e strutture secolari crea un panorama urbano davvero unico. L'iconica cattedrale di Helsinki, con la sua imponente cupola verde, è una testimonianza del ricco passato della città. Un capolavoro neoclassico che rappresenta non solo un luogo di culto, ma anche un simbolo della storia di Helsinki. Poco distante, la vivace piazza del mercato offre un'esplosione di colori e sapori, con prodotti freschi e manufatti finlandesi. Suomenlinna è un sito patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Questa storica fortezza è un capolavoro di architettura militare, che offre uno sguardo affascinante sul passato della Finlandia. Distribuita su sei isole, ciascuna con un carattere unico, Suomenlinna combina bellezze naturali e affascinanti testimonianze storiche. La sua posizione strategica e la sua costruzione imponente ne fanno una meta irrinunciabile. Al calar del sole, Helsinki si trasforma, assumendo un'atmosfera magica. Il Parco Esplanadi si anima di artisti di strada e musicisti. Helsinki offre un mosaico di esperienze capaci di catturare il cuore di ogni visitatore. Proseguendo verso nord, arriviamo a Rovaniemi, capitale della Lapponia e città ufficiale di Babbo Natale. Qui, la magia del Natale vive tutto l'anno. Nel villaggio di Babbo Natale, è possibile incontrare il simpatico uomo in rosso. Potrai scattare una foto con lui, condividere i tuoi desideri natalizi e inviare una cartolina dall'ufficio postale. Parti per un'avventura emozionante a bordo di una slitta trainata da Aski o prova l'esperienza unica di un giro con le renne. Quando scende la notte, lasciati incantare dalla bellezza eterea dell'aurora boreale e riscaldati poi in una tradizionale sauna finlandese, magari seguita da un tuffo in un lago ghiacciato. A Rovaniemi, i sogni d'infanzia si avverano e le meraviglie della natura si rivelano in tutto il loro splendore. La nostra prossima tappa ci porta più a sud, a Tampere, città dove il patrimonio industriale si intreccia con l'innovazione moderna. Situata tra due laghi, il Nasiervi e il Puaiervi, Tampere regala scenari pittoreschi. Per un tocco di cultura, visita il Museo d'Arte di Tampere o goditi uno spettacolo al celebre teatro. Le famiglie ameranno il Sarkanyemi Adventure Park, con giostre e attrazioni emozionanti. Per una vista spettacolare della città, sali sulla torre di osservazione Nasinneula. Tampere è una città sorprendente, dove storia e modernità convivono in perfetta armonia. Il viaggio prosegue verso ovest, fino a Turku, la città più antica della Finlandia e antica capitale. Affacciata sulla costa sud-occidentale, Turku è una città ricca di storia e fascino marittimo. Visita il magnifico Castello di Turku, una fortezza medievale che domina la città da secoli e passeggia tra le sue maestose sale e antiche torri. Perdendoti tra le strade acciottolate del centro storico, ti ritroverai circondato da case di legno colorate e incantevoli boutique. Non dimenticare di esplorare il fiume Aura, il cuore pulsante della città. Concediti una crociera rilassante lungo le sue acque, passando sotto antichi punti che raccontano secoli di storia. Il nostro viaggio ci porta ora a Kuopio, una città incastonata nel cuore della meravigliosa regione dei laghi della Finlandia. Questa pittoresca località è una gemma nascosta, dove bellezze naturali e ricchezza culturale si fondono in perfetta armonia. L'atmosfera serena invita a rilassarsi e riconnettersi con la natura, rendendola ideale per chi cerca pace e tranquillità. Salendo sulla torre di Puyo, potrete ammirare panorami spettacolari sui laghi e i boschi circostanti. Il vicino lago Kallavesi, uno dei più grandi della Finlandia, offre esperienze indimenticabili. Crociere panoramiche, pesca o semplicemente relax lungo la riva, per immergersi nella tranquilla atmosfera che lo avvolge. Esplorate la cultura finlandese al Museo di Kuopio, e assaggiate la prelibatezza locale, il Kalakukko. Che si tratti di ammirare i paesaggi o di immergersi nelle sue ricche tradizioni, Kuopio promette un'esperienza indimenticabile. A breve distanza da Helsinki, troviamo Porvo, una delle città più antiche e pittoresche della Finlandia. Passeggiando tra le strade acciottolate della vecchia Porvo, fiancheggiate dalle caratteristiche case di legno rosso ocra, vi troverete immersi in un'atmosfera romantica. Questi edifici, oggi, ospitano boutique artigianali, gallerie e caffetterie accoglienti. La cattedrale di Porvo, con oltre 800 anni di storia, e il museo, rivelano l'affascinante passato e il patrimonio culturale della città. Passeggiando lungo la riva del fiume, è facile capire perché questa sia considerata una delle città più romantiche della Finlandia. Nel cuore della regione dei laghi troviamo Savollinna, una cittadina pittoresca dominata dall'imponente castello di Olavinlinna. Questa fortezza medievale sorge su un'isola nel lago e, con le sue mura e torri di pietra, offre uno spettacolo impressionante. Passeggiando tra le antiche sale, potrete immaginare la vita dei cavalieri e dei soldati che un tempo difendevano queste mura. Ogni estate, il Festival dell'Opera di Savollinna trasforma il castello in uno scenario magico, con artisti di fama mondiale che si esibiscono al suo interno. Oltre le mura del castello, la cittadina di Savollinna accoglie con strade pittoresche, caffè e negozi locali, offrendo un'atmosfera vivace. Un giro in barca sul lago Saimaa, il più grande della Finlandia, è il modo perfetto per ammirare il paesaggio circostante. La nostra ultima tappa ci porta a Oulu, una città vibrante situata sulle rive del Golfo di Botnia. Nota come centro di tecnologia e innovazione, Oulu si distingue anche per la bellezza naturale dei suoi dintorni. Al centro scientifico Tietomaa, esplorate le meraviglie della tecnologia, mentre al Museo d'Arte troverete una ricca collezione di opere finlandesi e internazionali. Per una pausa nella natura, passeggiate o pedalate lungo la promenade sul lungomare. In inverno, potete provare l'emozione del nuoto nel ghiaccio nella baia. Non lontano da Oulu, l'isola di Ailuoto è famosa per le sue spiagge incontaminate e la ricca avifauna. Dalle città vivaci ai tranquilli laghi e foreste, la Finlandia ha rivelato tutte le sue meraviglie. Speriamo che questo viaggio vi abbia ispirato a scoprire in prima persona la magia di questo paese. Non dimenticate di lasciare un like, condividere e iscrivervi al canale per altre avventure di viaggio. Alla prossima!